Quando sono uscito dall'università ho sempre sperato di restare nel campo che riguardava i miei studi, ovvero ingegneria elettrica. Ho presentato il mio curriculum sul sito di Anne Green Power e poi sono stato selezionato per un tirocinio, grazie a Giovanni Sì, all'interno dell'azienda. Una volta finito il tirocinio sono stato confermato all'interno dell'azienda e adesso lavoro qui da quasi un anno. Siamo partiti prendendo su questo progetto 16 giovani diplomati e 9 laureati. Questi giovani avevamo preso, erano tutti ragazzi molto preparati e molto seri, per cui abbiamo deciso poi di assumerne tutti quanti. Quindi siamo rimasti molto soddisfatti del progetto e penso che potremo ripeterlo anche nel prossimo anno. Grazie a tutti.